Ciao a tutti, vediamo come inserire una o più righe nuove in Excel. Allora abbiamo tanti metodi, ad esempio prendete tutta una riga e vi basta fare ctrl e più, ok? Avete visto? Così ne abbiamo inserita una, altrimenti con lo stesso metodo, in base a quante ne prendiamo, ctrl più, andiamo a inserire tot righe al di sopra. Quindi ecco un metodo, altrimenti possiamo prendere tranquillamente una riga, tasto destro, inserisci e aggiungi una riga. Allo stesso modo possiamo prendere due o più righe, tasto destro, inserisci, ci va ad inserire due righe. Altrimenti senza prendere una riga, ci basta metterci dove vogliamo, tasto destro, inserisci, ci chiede cosa vogliamo inserire, in questo caso riga, ok? E abbiamo inserito una riga, quindi ecco un po' di metodi su come inserire righe in Excel. Se avete richieste per altri video tutorial vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!